Ragazzi, sono le 4 e oggi si parte per l'anno. Ok ragazzi, stiamo entrando in un traghetto e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, siamo entrati in un traghetto, c'è un mio compagno che sarà vita per tutta la vacanza. Adesso non abbiamo la camera perché abbiamo portato i lettini apposta e adesso vi facciamo vedere tutto in un traghetto. Grazie. 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 Grazie.